Ciao sono Mr.Forex, è venerdì 5 luglio 2013, fine giornata, questo video solo per farti vedere ancora una volta come è il mio approccio nei confronti del trading online, sai che prediligo lo scalping e sai che mi piace convertire una posizione di scalping in una di position trade come chiudendo buona parte della posizione aperta e lasciando correre una piccola parte e mettendo uno stop loss che mi copre almeno i costi, questo lo posso fare se ho lo spazio sufficiente per coprire la posizione, perché sono entrato in questo trade long? semplicemente perché usando le barre a 5 minuti ho notato che il cross era molto debole al proseguire del suo movimento short da queste due barre che hanno ritracciato praticamente tutta la loro corsa, dopodiché sono entrato nel trade ma in quel momento era un po' tardi perché sono arrivato troppo tardi a vedere questo grafico, c'era una situazione di bassa volatilità che per il momento non mi ha permesso di allontanarmi diciamo un livello di sicurezza dal mio stop loss in ogni caso sono riuscito a guadagnare un piccolo profitto, il solito piccolo profitto della giornata che ti faccio vedere se non tocco qualche altro pulsante che non va bene quindi 53,60, tieni presente che ho fatto un'operazione dove ho perso 14 dollari che ho chiuso con uno stop loss di tempo perché vedevo che il prezzo non andava nella mia direzione nei tempi stabiliti e poi ho recuperato tutta la perdita e ho realizzato 53 dollari perché questa posizione mi ha procurato un guadagno di circa 67 dollari chiudendo lo 0,8% rispetto all'8 che avevo aperto in questo momento ho una posizione che sta ancora guadagnando ho messo uno stop loss leggermente sopra il livello di ingresso proprio per proteggermi e far fronte ai costi dello spread e perché ti dico che mi piace molto questa operazione? perché questa operazione me la posso dimenticare dal punto di vista delle perdite visto che non posso più andare in perdita a meno che per caso il prezzo dovesse saltarmi in gap il mio stop loss cosa molto improbabile ma me la posso dimenticare perché non sto rischiando assolutamente nulla e ho la potenzialità di un guadagno illimitato cosa che ovviamente non è possibile perché andrò a seguire la posizione spostando lo stop loss e assicurandomi sempre più guadagno questi sono i trade che a me piacciono oggi è venerdì stiamo aspettando l'aggiornamento dei nostri indicatori che compongono l'orange indicator molto strana la discesa di euro dollaro di questa settimana devo dire che non me l'aspettavo assolutamente tutti questi sono i livelli che mi sono segnato lungo i giorni di trade che saranno buoni nei giorni prossimi qualora il prezzo dovesse tornare verso l'alto dicevo discesa che non mi sarei mai 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 lontanamente aspettato stiamo a vedere quello che dirà l'orange indicator e ti rimando appunto al video e al post dell'analisi settimanale dell'analisi con l'ausilio dei nostri studi con questo ti saluto e ci vediamo presto io sono Mr. Forex